good morning juventus qualche anno fa quando marotta era direttore sportivo della juventus io non avevo neanche la minima idea che avrei potuto farlo youtube perché facevo tutte altre cose andavo in giro a far foto praticamente dalla mattina alla sera una volta ho fatto una discussione con uno juventino perché a me dà molto fastidio quando si vuole giudicare il lavoro di un professionista e si va su su cose personali mi disse certo che aveva preso il malaca martinez che lo ricorderete tutti no primo anno di marotta quindi indietro andiamo all'anno di del neri mi disse è si vede che è strabico con un occhio che guarda est un occhio che guardò sguardo anche che giocatori è andata a prendere perché poi ce n'erano anche altri che non era eccezionale io mi arrabbiai molto perché era vero che malaca martinez è stato un fallimento era vero che purtroppo sono stati spesi anche tanti soldi all'epoca per l'epoca per quel giocatore ma a me aveva dato fastidio che aveva offeso per un difetto fisico di marotta che peraltro è una persona degna di stima ed è una bravissima persona per cui mi aveva dato molto fastidio ma in generale anche quando andavo a scuola mi dava fastidio se prendevano in giro una per l'orecchia sventola perché aveva il naso aquilino ciò mi ha sempre dato fastidio perché se si fa se si dà un giugipo anche perché poi molta gente dovrebbe guardarsi allo specchio no prima di andare a offendere o attaccare gli altri c'è molta gente che non ha gli specchi in casa quindi vabbè comunque premessa che voglio metterlo un attimo da parte però però ha senso con quello che dico oggi quello che invece dico oggi mira sbilenca e per quello che sono andato a pescare questo è questo questo aneddoto che vi ho raccontato è dedicato cristiano giuntoli ma a livello professionale ci mancarebbe altro non è un'offesa a titolo personale che perché non ho il piacere di conoscerlo anzi mi farei mi avrebbe fatto molto piacere conoscerlo perché secondo me una persona in gamba ma a livello professionale qualche dubbio che si cambia un po la mia sbilenca mi è venuto in tutti questi mesi non ultimamente vi spiego perché siamo tutti d'accordo che l'obiettivo principale del calcio mercato della juventus fin da marzo quando la show dichiarazione a televisione olandese quando era in ritiro cop menas e cop menas siamo tutti d'accordo quanti mesi è che sentiamo dire la juventus investirà tutto il suo capitale principalmente su cop menas e poi arriveranno altri cop menas cop menas cop menas siamo arrivati che anche oggi cop menas arriva domani anche oggi cop menas arriva domani e nel frattempo siamo arrivati al 24 di agosto mancano sei giorni alla fine alla fine del mercato e salvo che arrivi mentre registro questo video o arrivi più tardi cop menas per adesso non è un giocatore della juventus bene per camiera sbilenca se avete visto la copertina se non l'avete guardata con attenzione guardatela bene al centro del tirassegno ho messo ovviamente l'obiettivo primario no i dieci punti o i cento scegliete voi se fate in unità di misura da 1 a 10 o in unità di misura da 10 a 100 facciamo 100 100 punteggio massimo c'è cop menas tutto su cop menas allora c'è qualcosa che non quadra perché qual è stato il primo acquisto della juventus giuntoli in questa sessione di mercato cop menas no di gregorio qual è stato tutto adesso prendiamo di gregorio poi cop menas è questione di poco di giorni giornalisti postone di poco vabbè perfetto quindi dopo dopo di gregorio arriverà cop menas no dopo di gregorio giuntoli si è buttato tutto su turam e ha preso turam premetto tutti i giocatori che mi piacciono se chiaro però cop menas doveva essere la priorità niente quindi spendi i soldi per di gregorio spendi i soldi per turam terzo obiettivo sicuramente sarà cop menas perché il centrocampo va rinforzato non basta turam no arriva e va glas luiz altro grande acquisto sicuramente speriamo incrociamo le dita vabbè adesso però ha fatto il portiere ha fatto due centrocampisti chiude il cerchio con il terzo centrocampista e prende cop menas no ti va di nottetempo a prendere cabal un difensore benissimo ho finito questo difensore un centrocampista il portiere adesso all in su cop menas video fatti da me video fatti da altri i giornalisti le tv i media i giornali rotocalchi web dappertutto no no perché caccia todiboh caccia todiboh caccia todiboh caccia todiboh niente da fare todiboh è scappato vabbè allora adesso visto che todiboh risparmi perché spendevi circa 30 milioni vai a prendere cop menas no è andato a prendere chi ti è andato a prendere chi ti è andato a prendere calulu calulu che va bene speriamo che vada bene che giochi come l'anno dello scugliato del 1000 adesso basta però no perché è vero che mancano le ali però manca sempre l'obiettivo principale i cento punti che ti fanno vincere la partita a freccette cioè te un cop manas dell'atalanta io in questi giorni accendo la tv leggo i quotidiani sfoglio le pagine di internet e tutti quanti all'unisono dicono adesso la priorità è nico gonzalez allora io mi faccio delle domande è vero che ci sono delle difficoltà con l'atalanta ma ci sono state anche con l'aston villa perché dovevamo dargli mckennie e healing e gli abbiamo dovuto dare barrencia perché mckennie si è rifiutato abbiamo inseguito todiboh quindi una volta accaduto che una volta perso todiboh adesso la juve si arriva su un altro ruolo prenderà un altro giocatore no è rimasta sul difensore e ha preso calulu cabal è arrivato perché tiago motta ne voleva uno abile a sinistra che potrà fare il centrale e un abile a destra che potrà fare il centrale appunto calulu e todiboh il portiere avevamo scesni l'hanno preso hanno fatto bene perché con i piedi bravo secondo me diventavano grande portiere allora la domanda che mi faccio io è questa e vi concludo con questo strano video di sabato mattina che siete magari a casa da lavorare siete anche più rilassati quindi magari avete anche più voglia di sentire le mie lucubrazioni mentali lo dico io che sono lucubrazioni mentali non è che tutti questi acquisti che vengono fatti prima dell'obiettivo principale ovvero copmanes vengono fatti con questa mentalità intanto mettiamoli a casa perché se poi dovesse saltare copmanes almeno mezza squadra rifatta io questa sensazione ed ho sempre forza a quel video che ho fatto quasi tre settimane fa quando pubblicai il titolo con copmanes non arriva punto interrogativo perché perché secondo me è troppo lunga la trattativa è troppo sbandierata è troppo data per certa i giornalisti non hanno nessun nessuna notizia attendibile in mano e dicono sicuramente arriverà sicuramente si concluderà sicuramente verrà la juve io questo sicuramente questo avverbio non ce lo metterei davanti io direi speriamo che arrivi se fosse un giornalista non posso dire speriamo perché magari non è tifoso della juve però dovrebbe usare il condizionale almeno dovrebbe arrivare non sicuramente non sicuramente capite e quindi non so se giuntoli alla mira sbilenca oppure se è stato costretto a sparare delle freccette nelle posizioni laterali e volutamente non ha centrato l'obiettivo ovvero il bersaglio ma la domanda che mi pongo in finale di questo good morning è ma l'obiettivo prima o poi lo centrarà cioè la freccetta quella dei 100 punti verrà scoccata l'obiettivo verrà colpito oppure no ai poster come diceva quello la tua sentenza good morning juventus